Amici di Nuola TV, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con la nostra rubrica La salute degli occhi, sempre naturalmente in compagnia del dottor Marzio Di Meglio, che ringraziamo per essere anche oggi qui con noi per Oculista, referente servizio patologia orbitaria della casa di cura Maria Rosaria Pompei. Oggi ci occupiamo di un argomento davvero ad ampio spettro rispetto a quelli che abbiamo trattato fin qui, traumi e incidenti agli occhi. Partiamo dai primi, cioè partiamo dai traumi. Quali sono quelli più frequenti? Anche perché immagino che lei con la sua esperienza ormai una statistica ce l'avrà bella chiara e presumo delineata. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Innanzitutto se dobbiamo parlare di quelli con maggiore frequenza sono i corpi estranei. I corpi estranei che ci possono capitare sia come possiamo vedere il primo, quello nero, la prima immagine. È una folata di vento che ha fatto andare una scheggetta che poi è stata inglobata sotto il fornice congiuntivale superiore e lì basta poco ed è un trauma semplice. Si risolve in poco e non lascia conseguenze. Questo presumo sia anche il più il più abituale. Il secondo che è anche uno dei più abituali come possiamo vedere una bella scheggia metallica. Come vediamo intorno alla scheggia vediamo un alone biancastro perché le schegge soprattutto quando arrivano che sono state prodotte o da un flex o da una smerigliatrice sono incandescenti. Quando raggiungono la superficie dell'occhio fanno tipo una saldatura a caldo, si attaccano e se non vengono asportate meccanicamente non vanno via. In tal caso è più difficoltoso. In tal caso oltre che più difficoltoso abbiamo anche una problematica che dipende da quale zona dell'occhio colpiscono perché se è una zona periferica come quello che ho mostrato generalmente a parte una cicatrice perché come se uno ha il vetrino dell'orologio scheggiato non danno dei danni permanenti alla vista ma se raggiungono la porzione centrale della cornea in corrispondenza del forame pupillare o ai margini di esso daranno delle distorsioni delle immagini che rimarranno a vita quindi dei problemi che il paziente si porterà via per il resto della vita. Questo ci fa capire anche su certe cose come la prevenzione sia importante. Quando si fanno dei lavori sia che si lavori sul posto di lavoro ma sia soprattutto quando si fa bricolage mi raccomando i dispositivi. Un occhialino o una maschera perché come possiamo vedere nella prossima immagine con... esatto! Questo è un nostro conterraneo che qualche settimana fa stava lavorando con un desespugliatore si stava pulendo la siepe e il giardino di casa, gli è schizzato una pietrina nell'occhio e quello è stato il risultato. Fortunatamente questo qua si è risolto con un mesetto di terapia ma ci sono dei casi molto più gravi in cui si ha la perdita anatomica anche del bulbo. Le stavo cedendo... le stavo cedendo se l'avesse messo a posto il nostro conterraneo si ha tranquillizzato. Questo fortunato avete andato a posto con un mesetto di terapia. Dottore abbiamo parlato di traumi, quali sono invece gli incidenti? Gli incidenti? Perché poi non sono la stessa cosa, sono due cose distinte e separate. Gli incidenti possiamo avere sia degli incidenti sportivi, i più frequenti sono delle pallonate, palline da tennis, pugni nel pugilato, successivamente invece come incidenti possiamo vedere... Questo qui è un incidente che è capitato sempre sulla nostra isola un paio di annetti fa. Una folata di vento fece volare un ombrellone. Possiamo vedere che il cristallino che vediamo in basso è stato totalmente lussato giù e il paziente il giorno dopo ha dovuto avere un intervento anche molto complesso per cercare di riparare il danno subito. Perché avendo avuto una lussazione del cristallino con perdita della zonula non si è potuto procedere come si procede normalmente con l'intervento di cataratta e l'impianto nel solco. Ma lei ha dovuto avere una vitrectomia, una lensectomia, quindi svuotare l'occhio dal cristallino ormai lussato da tutto il corpo vitreo, fare dei buchetti nella sclera e provvedere a impiantare un cristallino particolare suturato nella sclera. Mi dica che anche qua c'è stato il lieto fine. Il lieto fine ha recuperato, lui non era isolato, l'ho sentito qualche tempo dopo, ha recuperato quei 4-5 decimi. Non è un recupero totale ma per un occhio del genere è un buon risultato nel post chirurgico. Altre conseguenze particolari che possono derivare da traumi ed incidenti, quando è che poi, come nell'ultimo caso che lei ha citato, le possibilità di recupero sono un po' più complesse, sono invece un po' più agevoli? Allora, diciamo così che in genere i traumi a bulbo chiuso danno una prognosi migliore. I traumi da scoppio, i traumi a bulbo aperto, i traumi perforanti sono delle vere sfide sia per il chirurgo che per il paziente. Possiamo vedere quest'occhio che a seguito di uno scoppio, non ricordo che cosa fosse scoppiato, si è avuto un'apertura totale della cornea con una perdita di sostanza, l'iride è prolassata al di fuori ed è in parte necrotica, il cristallino si è spostato, si è lussato, si dice in termini tecnici, e poi ha avuto un interrubinamento emorragico. Questi sono occhi che anche a seguito di plurime chirurgie non ritorneranno mai come nuovi. Per un occhio di questi è una sfida per l'equip chirurgica dopo 4, 5, 6 interventi se continua a vedere il movimento della mano o a vedere delle ombre. Quindi la prevenzione, soprattutto nei luoghi di lavoro, durante lo sport, è la migliore arma per proteggerci da questi incidenti. Tottore, le voglio fare due domande in una, anche perché poi fondamentalmente la prima si collega alla seconda e viceversa. Lei ha parlato, ha fatto l'esempio anche della scheggia, del flex, della scintilla. Abbiamo noi globalmente poca attenzione per i nostri occhi? Cioè nel senso che generalmente siamo portati ad esporli un po' troppo ignorando i rischi ai quali si vanno incontro. Questa era la prima. Mi ricollego con la seconda. A parte quelle che lei ha già citato poc'anzi, quali precauzioni normalmente nei casi che abbiamo esposto e in altri possono essere adottate? Allora, purtroppo c'è spesso molta superficialità, perché le persone pensano che vabbè un lavoretto da un minuto, ma dovevo fare un punto di saldatura, dovevo giusto fare. Oppure capita a volte anche che il trauma non sia, il corpo estraneo corneale, la scheggia, non sia un'azione diretta del paziente, ma sia un'azione di terzi. Ricordo qualche anno fa una persona che vedi, studentessa, con una scheggia. Alla fine che era successo? Lei, ripercorrendo quello che aveva fatto nei giorni precedenti, era passata col suo ciclomotore lungo una strada dove c'era un cantiere che stavano lavorando e se l'era beccata. In quel caso è stata Iella, fortunatamente si è risolto con un po' di spavento, un interventino da un minuto, un po' di goccine. Ma ci sono molti casi che si può dire che se la vadano a cercare, perché più di una volta le persone dicono che devo fare l'ultimo punto, stavo scomodo, con l'occhiale non vedevo bene, me lo sono tolto. Ma se facciamo anche... io non voglio accusare tanto, ma facciamo un attimo un calcolo, proprio i conti della serva. Un occhialino di protezione, una visiera di protezione, tra i massimo 5-10 euro. Solo una confezione di collirio per mettere nel post-trauma, viaggiamo intorno ai 25. Insomma, i conti sono conti, specialmente di questi tempi. L'ultima pillola, e poi chiudiamo, perché lei parlava, alle volte qualcuno se la cerca, magari alle volte siamo anche un po' incoscienti o sottovalutiamo il problema. Nel senso, quando poi per un qualsiasi trauma, mi scusi il termine improprio, di natura invasiva, spesso siamo portati a dire, aspettiamo un giorno che magari va via da solo, invece, insomma, correre subito ai ripari, quanto è importante in questi casi? È fondamentale. Porto due o tre esempi. La scheggia che ho mostrato prima, più tempo rimane, se è metallica, più dà ruggine, che invade i tessuti, quindi più si deve scavare in profondità e in larghezza, lasciando dei danni potenzialmente permanenti. Invece, un trauma perforante prima arriva all'attenzione di un servizio preposto e prima viene suturato e messo il paziente in antibiotico-terapia, perché ricordiamo che i corpi estranei sono sporchi, non sono puliti, quindi oltre al corpo estraneo porterà dentro dei batteri che possono avere delle conseguenze disastrose. Inoltre, un occhio che resta aperto, soprattutto come quel trauma da scoppio che avevo mostrato prima, può andare da un momento all'altro incontro alla cosiddetta emorragia espulsiva, quindi si può, attraverso quella breccia, svuotare di tutto il suo contenuto con perdita totale. Enzo, ma abbiamo capito perché certe cose non vanno assolutamente sottovalutate. E se mi è permesso, attenzione soprattutto, siamo lontani, ma nelle feste i pietardi meno si maneggiano, meglio è. Quello è poco, ma sicuro per gli occhi e non solo per gli occhi. Grazie al dottor Marzio Di Meglio, grazie a tutti quanti voi per averci seguito. La salute degli occhi è su tutti i nostri canali social e poi sul canale 80 del Digitale Terrestre. Torniamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento e un nuovo focus su una tematica legata, come sempre, alla salute degli occhi. Grazie dottore, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.